ci fa tanto bene privatamente ricordare tutti i giorni i dolori della vergine maria quanti devoti della vergine maria recitano ogni giorno la corona della dolorata questa corona ha sette poste ed ognuna di questi a sette grani che si allarghi sempre più la cerchia di coloro che onorano la vergine dolente la vergine maria si dolse con santa brigida che sono molto pochi coloro che la compatiscono e la maggior parte dimentica i suoi dolori onde le raccomando tanto di aver memoria delle sue pene perciò impegniamoci quotidianamente nella recita della preghiera dei sette dolori fioretto fare sette piccoli sacrifici ad onore dei sette dolori della vergine maria giaculatoria regina dei martiri pregate per noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti